Grazie di cuore per l'accoglienza, grazie Presidente Serracchiani, cara Debora, grazie a tutti, all'Oggione ma anche alle prime file che rappresentano con orgoglio il senso di una identità territoriale che è speciale, sottolineava Debora dal punto di vista della definizione costituzionale, ma è speciale nel senso di grande attaccamento alla propria terra e grande voglia di futuro. Per me è davvero molto bello poter condividere con voi oggi brevissime considerazioni in questo giro per l'Italia che stiamo facendo, anche per non rimanere troppo a lungo nei palazzi, la ringrazio molto, posso darvi un suggerimento tecnico, scusate, sarebbe stato più credibile se aveste fatto parlare e lo avessi detto dopo, dirlo prima è un buffone sulla fiducia che prendiamo. Vi ringraziamo per questa gentile e cortese introduzione, ma una delle cose più belle che io sto imparando in questo anno e mezzo di governo è la straordinaria ricchezza del nostro Paese e la straordinaria ricchezza del nostro Paese si può valorizzare soltanto avendo quella grande umiltà e quel grande coraggio di chi ascolta sempre tutti, poi si prende le proprie responsabilità, ma consente agli altri, anche a chi non la pensa come lui, di continuare a credere in un grande disegno che è quello di un'Italia più semplice, più giusta e più forte. E noi andiamo avanti di qualsiasi cosa ci venga detto. Allora vorrei raccontarvi molto brevemente che cosa stiamo facendo, vorrei raccontarvi brevemente come l'Italia vuole ripartire e vorrei raccontarvelo partendo da alcuni dati. Il primo è molto semplice, il primo riguarda esattamente il vostro territorio. Circa 20 minuti fa, mezz'ora fa, abbiamo pigiato un tasto, un tasto rosso, molto semplice, che però dà il via a un investimento di 330 milioni di euro. Lo ha fatto la Danieli con l'ABS e lo ha fatto in un momento nel quale sembrava assurdo provare a fare un investimento da 330 milioni di euro in Italia, perché intorno a noi siamo pieni di gente che ci racconta, ci dice che l'Italia è spacciata, è finita. Sono quelli bravi, io li chiamo gufi, se volete cambiare animale fate pure, però i gufi sono anche ormai entrati nel vocabolario complessivo del nostro paese, che non sono quelli che parlano male di me o del mio governo, questo è legittimo, svolgiamo talvolta anche come avete visto una funzione sociale, ma sono quelli che parlano male dell'Italia, sono quelli che non ci credono nel nostro paese e a questi gufi noi diciamo, quel tasto da 330 milioni di euro, i risultati che stanno arrivando sono il segno più forte e più bello che possiamo ripartire. Certo, dobbiamo farlo però come? Dobbiamo farlo partendo da dei dati di fatto, da dei dati oggettivi. Guardiamo gli ultimi tre anni, Franco, se hai i dati degli ultimi tre anni del PIL, vediamo che finalmente l'Italia esce dalla situazione di crisi nella quale eravamo stati. 2012-2,3%, 2013-1,9%, questo più 0,9% è ancora poco rispetto a quello che deve fare l'Italia. È ancora poco, io non credo che le cose stiano andando bene, dico che le cose stanno andando meglio. Ma perché questo sta avvenendo? Guardiamo alcuni dei dati, mandameli in successione tu, Franco, io li commento via via. Primi dati, Jobs Act, l'investimento sui posti di lavoro non è un investimento che è semplicemente figlio delle regole nuove che ci sono, eppure fortunatamente queste regole nuove stanno iniziando a funzionare, ma sono il frutto di un gigantesco investimento sulla fiducia delle persone. Se noi possiamo dire a un ragazzo, mi mandi per cortesia le slide dei posti di lavoro, se noi possiamo dire a un ragazzo tu hai finalmente un contratto a tutele crescenti, cosa che ha portato ad avere circa 300.000 posti di lavoro in più, se tu riesci a dire che hai tra aprile e maggio 2015 185.000, da dicembre ad oggi quasi 300.000 posti di lavoro, non è un numerico, continuo. Per te singolo ragazzo, per te singola ragazza, avere un contratto precario che diventa tutele crescenti significa una cosa molto semplice, significa che finalmente, finalmente esci dalla dimensione di un presente continuo senza orizzonte, senza futuro e poi per esempio accendere un mutuo e poi avere un progetto di vita e poi finalmente mettere in cantiere una maternità, una paternità, visto che siamo il paese in Europa con il più basso tasso di natalità, che è una cosa assurda per un paese così bello come il nostro. Siamo il paese in cui si vive più a lungo, meno male che quelli che dicono Presidente abbiamo un problema, cosa? I pensionati, perché? Perché vivono troppo, scusate, ora, no perché ci sono delle riunioni che sono paradossali con idee, meno male che siamo un paese che ha l'età media più alta, siamo i secondi al mondo, più di noi giapponesi, noi dobbiamo battere questo record, però per adesso siamo secondi al mondo su 200 paesi, ma questo è un fatto positivissimo, bellissimo, però la mancanza di natalità, il tasso basso di natalità è un grande problema. Allora, se tu dici che quel numerino del posto di lavoro, indipendentemente dalla discussione ideologica articolo 18, non articolo 18, dalle opinioni che ciascuno di noi può avere e che sono assolutamente legittime, quel tipo di investimento lì riporta l'Italia ad avere finalmente un progetto per i propri figli, per le persone più giovani. Il Jobs Act non a caso, non ha soltanto una ripercussione sul numero dei posti di lavoro, ce l'ha immediatamente sul fatto dei mutui, sull'aumento dei mutui, sulla capacità di tornare a vedere i consumi che crescono. Ecco, questi dati di fatto, a mio giudizio, non sono ancora sufficienti a dire che cosa deve essere l'Italia nei prossimi anni, cioè in altri tempi, in altri termini e in altri tempi. Noi non è che possiamo accontentarci di dire, vabbè, ragazzi, abbiamo ripreso, eravamo in crisi, eravamo col segno meno, adesso siamo il più, adesso finalmente qualcuno torna ad assumere, calano le ore di cassa integrazione. Vi basta questo? A me no. Io credo che noi siamo un Paese che può avere tutto, però dobbiamo avere il coraggio di essere consapevoli di quello che va fatto. La riforma della pubblica amministrazione adesso va attuata, i sindaci lo sanno bene, lo sanno meglio di chiunque altro. È impossibile vedere negli occhi la frustrazione che prende un piccolo artigiano che viene a portarti i documenti in comune per poter aprire magari un capannone o allargarlo, tutto contento, perché magari fa anche un'assunzione in più e poi vede che ci vogliono mesi per le pratiche. È impossibile non cogliere la necessità di un investimento sulla scuola e sull'università diverso. Lasciatemelo dire con questo anche tono molto concreto. La misura più importante della legge di stabilità non è la riduzione delle tasse, cheppure è importante, non è il superammortamento, cheppure è importante, non è l'investimento nei minimi per le partite IVA, per coloro i quali stanno dentro il Jobs Act dei lavori autonomi, così l'abbiamo definito. Tutte cose importanti, ci torno tra un attimo. L'elemento chiave di questa legge di stabilità è il fatto che si sono presi finalmente i posti per mille ricercatori all'università, per 500 professori che vengono levati dalle trappole della burocrazia, che si mettono finalmente i denari per 500 nuovi posti di lavoro nel campo dei professionisti della cultura, che si mettono finalmente i soldi per la prima misura organica contro la povertà al regime un miliardo di euro, che non riguarda la povertà come sussidio, ma riguarda la povertà dei bambini, dei ragazzi che hanno meno di 18 anni e che vivono sotto la soglia di povertà nell'Italia del 2015, che sono tecnicamente parlando uno scandalo al quale vogliamo finalmente porre rimedio attraverso un'iniziativa, la prima non un'iniziativa italiana fatta soltanto dal governo, ma un'iniziativa che coinvolga il terzo settore, il volontariato, l'associazionismo, le fondazioni bancarie, questa è la nuova legge di stabilità. Naturalmente questo tipo di azione è oggi sui giornali molto discusso, oggi sui giornali la discussione è Renzi abbassa le tasse, ma è di destra o è di sinistra? Io trovo questo dibattito surreale, qui non siamo all'iniziativa di un partito, qui siamo all'iniziativa del governo che sta raccontando le cose che sta facendo e che sta anche, come dire, cercando di illustrare le cose sulle quali fa più fatica e le cose che invece vanno meglio. Abbassare le tasse in Italia non è né di destra né di sinistra, è semplicemente giusto, è semplicemente normale in un paese in cui le tasse le hanno pagate in passato solo alcuni e non tutti. Allora iniziamo dal dire concretamente i risultati. Sarà un caso o no che per la prima volta c'è un'operazione di lotta all'evasione che parte da strumenti anche, voglio dire, innovativi, lo split payment, l'incrocio delle banche dati e che porta oggi ad avere un aumento di gettito dell'IVA del 4,6%. Cioè noi stiamo ricevendo in cassa più soldi di quelli che dovremmo avere con la crescita del 0,9%. Perché stiamo ricevendo più soldi? Perché si è scoperto finalmente che nell'era del 2015, in cui tutti hanno un telefonino, il sistema più efficace per combattere l'evasione non è quello di far giocare finanzieri e commercianti a guardie e ladri, non è quello di mettere fuori dai negozi a giocare a bubussette per vedere se finalmente esce qualcuno e quando esce andare a controllargli lo scontrino, vedere che cosa ha fatto, cosa ha mangiato la sera, se la macchina ha fatto il pieno. Il vero sistema di lotta all'evasione è l'incrocio delle banche dati, è l'utilizzo dei big data, è l'investimento nell'innovazione tecnologica. Soltanto con il fisco 2.0 noi potremo combattere l'evasione e a quel punto il principio pagare meno pagare tutti è un principio sacrosanto che viene fuori, noi l'abbiamo messo per esempio nel canone. Io non so quanti di voi pagano il canone, spero tutti. In ogni caso dal prossimo anno il meccanismo è molto più semplice, chi pagava 114 euro pagherà meno, non ci sarà più un adempimento e il canone andrà a diminuire nei prossimi anni. Però il principio è che se tutti pagano, quegli onesti pagano meno. E allo stesso modo il fatto che in questa legge di stabilità ci siano tra il fine 2015 e l'inizio della stabilità del 2016, oltre 3 miliardi e mezzo di euro dalla volontà di disclosure, che vuol dire andare a riprendere i soldi in Svizzera, ma abbiamo firmato non solo con la Svizzera, ma anche con il Vaticano e con Liechtenstein, degli accordi per riportare indietro i denari e inserirmi nel circuito virtuoso della tassazione normale, è un principio sacrosanto. Questo governo è il primo che fa un'operazione di questo genere. Allora, se tu riduci l'evasione, se tu riduci gli sprechi, se tu affermi il principio dei costi standard, per cui la siringa se costa così a Udine deve costare così anche a Catanzaro, e questo principio è finalmente affermato dentro la legge di stabilità, se tu fai questo tipo di lavoro, accade una cosa molto semplice. Hai lo spazio per ridurre le tasse. Nel 2014 abbiamo omesso gli 80 euro, vale a dire 10 milioni di italiani, 10 miliardi di euro, più o meno la cifra è quella. 80 euro per chi guadagnava meno di 1.500 euro. Allora dicevano che non ce la farete, lo fanno per mancia elettorale. Sono arrivati dopo le elezioni, la prima mancia elettorale ritardata della storia sarebbe stata. Comunque è andata. Secondo punto, 2015, via lira, costo del lavoro dalle imprese. Terzo punto, Imo e Tasi prima casa, quest'anno. Ah, ma questa misura l'avevano già proposta altri, come se una misura dovesse essere valutata sulla base di chi la propone. Una misura si valuta se è giusta o non è giusta. Io credo che se una persona ha lavorato per una vita e ha pagato le tasse mentre pagava un mutuo, possa ben avere il diritto di vedersi riconosciuto sulla prima casa. Poi chi ha la seconda, la terza e la quarta è giusto che possa pagare di più. Ma possa ben vedere il diritto di non pagare la tassa sulla prima casa. Anche perché io credo che questa misura possa aiutare il rilancio dell'edilizia. Perché è una misura in cui finalmente si dà certezza ai cittadini. Sapete quanti posti di lavoro abbiamo perso durante la crisi? Io sapevo un più. Comunque, quanto ha detto lei? 800. Io sono 920 mila. Spero che abbia ragione lei, ma temo di avere ragione io. Le posso chiedere, sa quanti sono? Ora non è che voglio interrogare, però. Sa quanti sull'edilizia? Più del 50%. Ovviamente non dipende solo da questo. Va cambiato il modello di costruzione. Bisogna puntare sull'efficientamento energetico, sulla sostenibilità, sul distruggere e ricostruire e non sul continuare a consumare suolo. Bisogna andare sull'innovazione. Io sono d'accordo sul fatto che si debba cambiare approccio. Ma se 500 mila persone hanno perso il posto di lavoro nell'edilizia deriva anche dal fatto che il mercato immobiliare è totalmente bloccato dalla paura. Mi permettete di giocare pulito e trasparente e dirvelo con, non guardandovi negli occhi perché c'è queste lucine, ma dicendovelo a cuore aperto. Io non credo che tutto questo derivi dalla tassazione sulla prima casa, ma penso che l'effetto fiducia che possa avere questa misura possa aiutare finalmente gli italiani a tornare a investire. Lo sapete o non lo sapete che noi italiani siamo i veri artefici del nostro futuro? Che nei due anni della crisi, dal 2012 al 2014, nei due anni più duri, gli italiani, a differenza di tutto il resto del mondo, hanno aumentato i risparmi privati. Noi abbiamo un debito pubblico molto alto, dal 2016 scende, lo sapete. Ma abbiamo anche un risparmio privato che è il più forte d'Europa. In realtà è il più forte del mondo secondo alcuni dati. Bene, questo risparmio privato valeva nel 2012 3.500 miliardi di euro. Nel 2014, due anni dopo la crisi, uno potrebbe dire questi avranno speso i soldi. Ma che? Questi soldi non soltanto non sono stati spesi, ma sono stati messi in banca con ancora più determinazione. E quindi il totale finale è 3.900 miliardi di euro di risparmio privato. Se noi finalmente restituiamo agli italiani la certezza del fatto che possono finalmente tornare a avere sicurezza dal proprio Paese, allora anche sull'immobiliare potremo finalmente ripartire. E anche sul settore dell'edilizia, partendo dal presupposto che quando noi investiamo in questi settori stiamo innanzitutto richiedendo fiducia e tranquillità ai nostri concittadini. Ridurre le tasse serve a restituire fiducia al consumatore italiano. Non so come andrà fuori di qui nei prossimi anni, non so come andranno i Paesi emergenti, non so che cosa accadrà nei grandi scenari del Medio Oriente, del Mediterraneo, non so che cosa accadrà in America, non so la crisi di alcuni Paesi sudamericani. So che se l'Italia fa la propria parte non ce n'è per nessuno. Questo ragionamento non è il ragionamento di un partito politico, questo ragionamento è un ragionamento che deve fare il governo e deve chiamare su questo tutte le forze vive della società. Perché che l'Italia vada bene non è interesse di un partito o dell'altro, è interesse di tutti. E in questi anni troppo spesso il dibattito politico è stato uno scontro tra fazioni, uno scontro tra componenti, dove l'unico obiettivo era distruggere l'altro reciprocamente. Io credo che si debba valorizzare il confronto politico. Io sono anche segretario di un partito politico, del principale partito italiano. Quindi figuriamoci se non sono pronto a questo. Ma c'è un momento in cui prima di tutto viene l'Italia e il compito della politica, prima ancora che dividersi, è quello di trovare il bene comune. E vorrei farvi un esempio su questo. Vorrei farvi l'esempio dell'Expo. Vorrei farvi l'esempio dell'Expo. Un anno fa, di questi tempi, la stragrande maggioranza diceva non andate all'Expo, non lo fate. A me dicevano Matteo, stacci lontano. Un autorevole pensatore, Beppe Grillo, diceva questo. Perché li vede? Sennò poi riparto con quelli di prima coi buffoni, buoni. Allora, diceva più o meno queste cose. Mi mandi il video di Grillo andando in delegazione a Rò a visitare l'Expo. Adesso questa roba dell'Expo, non sapevo neanche cosa dire. Sono arrivati tutti lì, tutti molto discreti, molto educati, tutti col cappellino, sono il capo ingegnere, buongiorno. Guardi, non c'è un cazzo cosa guarda, c'è niente. C'è un campo, quattro pezzi di cemento, guardi. Qui ci verranno due milioni di persone. Ma chi è che viene a Rò? Nella giornata di ieri l'altro il ventimilionesimo biglietto è stato venduto a Rò in quel luogo e soprattutto l'Italia ha dimostrato che le sfide si vincono e che se qualcuno ce l'ha con il governo, se la prenda con il governo, non con l'Italia. Il problema vero, grande che noi abbiamo è che quando ci diamo un obiettivo, troppo spesso anche tra di noi c'è chi rema contro, non perché ha a cuore l'interesse del Paese, ma perché vuole contestare chi in quel momento guida la barca. Allora, io vorrei proporre un patto a tutti da qui alla fine dei prossimi due anni. Ciascuno di noi si tiene le sue idee, i suoi voti, i suoi orientamenti, i suoi pensieri, ma a un certo punto di fronte a degli obiettivi condivisi possiamo mettere al centro l'interesse del Paese. Expo è stato questo. Expo ha mostrato dai grandi della terra, da Michelle Obama a Vladimir Putin, ai grandi europei, dai leader di Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, fino ai paesi dell'America Latina, ai paesi africani, che si può mostrare un volto dell'Italia, che è il volto di chi? Lotta per un ideale? Perché l'obiettivo dell'Expo è comunque quello di contrastare la fame nel mondo? Lo hanno spiegato molto bene Sergio Mattarella, il nostro presidente Sergio Mattarella e Ban Ki-moon qualche giorno fa, ieri a Milano. L'obiettivo è avere un livello di investimenti sul futuro, sull'agroalimentare, sulla sostenibilità, degno di questo nome. E l'obiettivo è anche però avere un po' di orgoglio, sentirsi battere il cuore quando si sente la parola Italia. L'Expo è stato questo. E io credo che l'Expo debba essere considerato, indipendentemente dall'organizzazione dell'evento, un po' il modello con il quale noi vogliamo guardare al futuro. Ci sono delle battaglie che vanno fatte insieme. Vi faccio un esempio banalissimo. Qui voi avete prodotti agroalimentari di eccellenza. Vi sembra normale che in Italia consumiamo dei prodotti di altissima qualità, ma poi anche siamo in condizioni di esportarli. Bene, parlo dell'agroalimentare. Noi esportiamo come agroalimentare circa 36 miliardi di euro di prodotti, compreso il vino. I prodotti italiani hanno un mercato, i prodotti che suonano italiano, che hanno il nome che richiama l'Italia, hanno sull'agroalimentare, parlo solo dell'agroalimentare, un mercato potenziale di 90 miliardi di euro. Faccio l'esempio più banale. Non è il parmigiano, ma è il parmesan. È l'olio d'oliva che ha la bandiera nell'etichetta il bianco, verde e rosso, ma che poi è made in Spagna o in altri paesi. Noi potremmo arrivare a 90 miliardi di export sull'agroalimentare perché la gente ha fame d'Italia e però per nostre responsabilità organizzative, distributive, anche per un ritardo, se volete, culturale, perché per anni si è pensato che la globalizzazione fosse il male, non capendo che per l'Italia la globalizzazione è la più grande opportunità per promuovere la bellezza nel mondo. In questo scenario cosa accade? Accade che noi esportiamo 36 miliardi di euro e che abbiamo un mercato potenziale di 90 miliardi di euro. Allora che cosa occorre in questi due anni prima delle prossime elezioni, due anni e mezzo? Che indipendentemente dalle idee di tutti si possa intervenire concretamente per formare funzionari pubblici a andare nelle sedi che contano e non aver paura di dire io sono italiano e difendo con orgoglio l'interesse nazionale italiano perché troppo spesso nei palazzi del potere, specie in quelli europei, si è smesso di pensare in italiano, non per la pronuncia o perché si parla in inglese, tranquilli non mi metterò a sfoggiare il mio inglese davanti a voi, vi farò grazie di questo. Ma il problema è che se tu hai dei funzionari pubblici, dei servitori dello Stato che sono abituati a stare in un paese solido e autorevole è un film. Se la gente pensa che l'Italia sia un paese in cui si fanno le pagliacciate, io vado al Parlamento europeo e un paio di altre parti politiche intervengono uglando mafia, mafia, ma come mafia? Ma che immagine diamo del nostro paese? C'è l'illegalità da combattere in Italia, certo, ma quando uno rappresenta l'Italia all'estero dovrebbe sentire dentro di sé, dentro del proprio cuore, come fanno i sindaci di diverso colore politico, comunque l'orgoglio di rappresentare una comunità. Allora formare dei dipendenti pubblici, ecco perché faremo ulteriori concorsi anche su questo, ma sulla qualità e sul merito, non con gli amici degli amici, che siano in condizione di rappresentare l'Italia e di dire queste battaglie sono battaglie in cui l'Italia si fa sentire, non significa, lo dico agli amici giornalisti, dire a Renzi alza la voce con l'Europa. Ma che discorso è questo? Io dico una cosa molto semplice. Noi dobbiamo smettere di considerare l'Europa la maestrina dalla penna rosso e blu. L'Europa è figlia dei sogni degli italiani, non è matrigna degli incubi di tutti i giorni. L'Europa è stata fatta da una generazione di italiani e di altri paesi naturalmente, che usciti dalla guerra hanno immaginato quel luogo come l'unico strumento per dare anni di pace ai propri figli. Avevano visto la guerra e non la volevano per i loro figli e hanno costruito la pace e l'hanno chiamata Europa. Oggi l'Europa rischia di diventare soltanto un inganno burocratico, ma l'Europa quella lì l'abbiamo creata noi, è nostra e non la lasciamo agli altri. Quel modello di Europa lì dobbiamo tornare a valorizzarlo e a coccolarlo. E invece da noi l'Europa è considerata soltanto quando si parla che giudizio darà Bruxelles della legge di stabilità. E che giudizio deve dare? Noi rispettiamo le regole europee, anche quelle che non condividiamo, perché ci sono delle regole che secondo me sono sbagliate, economicamente sbagliate. Però le rispettiamo, cercando di trovare dei punti di equilibrio. Per esempio sono felice di dire ai sindaci che con la legge di stabilità 2016, dal 1 gennaio, finalmente, con un po' di ritardo e mi scuso di questo, potranno spendere tutti i denari che hanno nella parte investimenti, non nella parte spesa corrente, nella parte investimenti bloccati con gli avanzi di amministrazione, perché li terremo fuori dal patto di stabilità. Era un impegno che secondo me è sacrosanto e non è né di destra né di sinistra, è giusto. Però bisogna abituarci anche noi a pensare che siamo l'Italia. Franco, fai vedere in un minuto e 40 secondi chi siamo, perché noi ce lo dimentichiamo. Noi non siamo soltanto un insieme di problemi, come vorrebbe farci credere qualcuno. Se l'Italia si facesse un selfie, parterebbe questo video qui. Guardate questo video. franco, se questo è il selfie si è messi male, eh? Deve essere... Ecco, già meglio. Grazie. 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 Noi siamo questo e non per merito nostro, anche per merito nostro, ma soprattutto di chi ci ha preceduto. E allora, per una volta, possiamo smettere di piangerci addosso? Ci sono tante cose da fare? Sì. Sì. La politica in questi anni sta dimostrando che le cose si possono fare. Poi a qualcuno non piacciono. Mi dicevano, non avrai i numeri per fare la legge elettorale. Legge elettorale è approvata. Oh, mica tanto difficile, eh? La legge elettorale dice che chi arriva primo vince. L'ho cercata di spiegare all'estero, l'ho cercata di spiegare all'estero e mi hanno detto, ah no, molto interessante, sì, effettivamente è innovativo. Noi lo facciamo da qualche secolo. E io ho detto, ho capito. Ma noi in Italia eravamo più fantasiosi. Le ultime elezioni, se vi ricordate, io uso una dimostrazione, perché io non ero neanche candidato e la faccio il primo ministro. Ma se voi guardate, nelle elezioni del febbraio 2013, io ho in mente almeno quattro leader di partito che vanno in televisione e dicono, beh, insomma, non è che siamo arrivati prima, però abbiamo vinto noi, però, insomma, tutto sommato, non perdeva mai nessuno. Ora c'è un meccanismo, quello dei sindaci. Chi arriva primo vince, eventualmente a ballottaggio, e gli altri fanno opposizione. Chi dicevano, non avrete i numeri per fare la riforma costituzionale? Ce l'hanno detto per tutta l'estate. Gli stessi che ci hanno detto per tutta l'estate che non avrà i numeri, da un paio di giorni sono in ferie, probabilmente, non si vedono più, non aprono più bocca con i giornali. Ci dicevano, non avrete i numeri per cambiare il mercato del lavoro. È andata, anche quella. Qualcuno contesta, sì, per carità, nessuno ha la pretesa di fare le cose perfette. Però i dati di fatto sono quelli per cui oggi, se un ragazzo in più ha un contratto a tutele crescenti e l'Italia è considerata più attrattiva nelle graduatorie internazionali, io sono contento. Ci dicevano che non avremmo mai fatto le riforme sulla pubblica amministrazione, che pure è soltanto all'inizio, è fatta la legge perché c'è ancora molto da lavorare. Insomma, potremmo continuare a lungo. Abbiamo dimostrato che le cose si possono fare. Però ora io sono qui, in tutti i teatri di tutte le province d'Italia, per chiedere un aiuto. Perché alla faccia di quelli che dicono sempre, ah, c'è l'uomo solo al comando, io so perfettamente le mie responsabilità e non ho paura. Vado avanti come un treno, posso perdere le prossime elezioni, ma non posso perdere la faccia con gli italiani e con gli italiani. E quindi vado avanti senza fermarmi di un centimetro. Credo, tra l'altro, diciamo alla Serracchiani che se no si preoccupa, credo che non le perderemo le prossime elezioni. Non ho visto la Serracchiani un po' preoccupato. Però il problema non è il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia o i sindaci. Il problema è che questa grande scommessa di ripartenza dell'Italia, per quel video che avete visto e che abbiamo visto, o la vinciamo tutti insieme, coinvolgendosi e ripartendo, oppure perderemo un'occasione storica. Pensate per un secondo come se avessi di fronte una cartina. Ciò che sta accadendo in Afghanistan. Noi stiamo valutando l'ipotesi di continuare a collaborare con gli americani e con gli altri, perché quel Paese non torni in mano ai talebani. I talebani sono quelli che, vi ricordate, non soltanto distruggevano le statue, disintegravano la vita delle bambine, delle ragazze, delle donne. E quanto è fondamentale oggi dire che questo mondo si salverà se le battaglie italiane fatte all'ONU e in tutti i Paesi, contro le mutilazioni genitali, contro i matrimoni forzati, contro la mancanza di ruolo delle donne, questo Paese e questo pianeta si salverà se tutti insieme avremo la forza di dire che queste battaglie in difesa delle donne sono battaglie in difesa della civiltà. e di ciascuno di noi. Abbiamo l'estremismo, il fanatismo, che parte in Afghanistan, nonostante il grande lavoro del Presidente Ghani, ma che tocca altri Paesi del mondo, assume nomi diversi. Stato islamico, ISIS, ISIL, Califato, Al-Qaeda, Boko Haram, ciò che accade in Nigeria e nei Paesi dell'Africa occidentale e ancora fino al Kenya. Io sono stato in Kenya a portare la voce dentro una università perché i terroristi avevano ucciso studenti. I terroristi vogliono ucciderci, ma quando non ci riescono vogliono farci vivere come piace a loro. Nella paura. Ecco perché colpiscono le scuole. Ecco perché colpiscono le università. Ecco perché colpiscono le redazioni dei giornali, come a Parigi. Ecco perché colpiscono i musei, come a Tunisi. Vogliono mettere in discussione il nostro senso di identità. Ecco perché buttano giù Palmira. Ecco perché intervengono in questo modo. Noi siamo l'Italia. Dall'Afghanistan alla Nigeria. Dalla Libia fino al Kenya. Sappiamo perfettamente che non si interviene in modo istintivo di fronte a queste grandi questioni. Occorre una strategia lunga tanti anni. Ma se l'Italia vuol fare la sua parte, ha bisogno di portare quello che più forte ha. Cioè la sua capacità di essere superpotenza. Non nucleare. Non militare. Abbiamo bravissime militari e militari che fanno un grandissimo lavoro e strutture d'avanguardia. Ma certo non saremo mai i numeri uno al mondo nella diplomazia o nel nucleare. Possiamo essere una superpotenza culturale. Se smettiamo di pensare che il mondo ci guardi con gli occhi tristi e rassegnati con cui talvolta ci siamo guardati noi in questi ultimi anni. In questi ultimi anni la musichetta di alcuni servizi televisivi, la musichetta di alcuni talk, la musichetta di alcune discussioni della politica e dei politici era sempre la stessa. Va tutto male. Per cui è bene, via, i ragazzi se ne vadano, cervelli all'estero, cervelli in fuga. I ginocchia rimaste qui, i pancreas rimasti qui, i cervelli in fuga. Che discorso è? È chiaro che se uno se ne vuole andare se ne vada. Ma questo è un grande paese pieno di potenzialità. Io penso e vi chiedo, se non sia il caso, di provare per i prossimi mesi a mettere la parola fine alle polemiche. Le riforme ormai hanno preso la loro strada. Stanno andando, i cittadini diranno con il referendum il prossimo anno se va bene o no la riforma costituzionale. Ma oggi posso chiedere all'operosa gente del Friuli Venezia Giulia se se la sente, indipendentemente dal colore politico, di provare a dare una mano perché finalmente nei comuni in cui noi viviamo possa tornare quello che già avete, che le prime file hanno mostrato, l'orgoglio delle radici. Ma l'orgoglio delle radici serve se le mandi nel futuro. Non è un ricordo. Questo non è un museo. Questo paese non è un museo. Voglio chiedere alle piccole e medie imprese se se la sentono di continuare a investire. C'è una misura banale nella legge di stabilità. Chi fa investimenti nella propria azienda, anziché mettere i soldi in tasca e andarsene, chi fa un investimento nella propria azienda dal 15 ottobre fino al 31 dicembre del 2016, ha diritto a un ammortamento maggiore. Cioè se tu prendi una pressa, se tu compri un macchinario, anziché avere lo sconto fiscale al 100, o meglio, hai il superambientamento, significa che potrai portarlo in deducibilità fino al 140% del valore. Se lo hai pagato 100 è come se fosse costato 140. È un piccolo sconto che lo Stato ti dà per dirti grazie di aver investito nell'azienda anziché di aver nascosto i soldi. E posso chiedere al mondo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, chiudo con loro, che ci diano davvero una mano. Noi mettiamo un miliardo a regime sulla povertà, mettiamo però anche più soldi sul fondo sociale. C'è una legge in modo particolare che mi sta a cuore, non è soltanto quella del terzo settore, è la legge sul servizio civile, è la legge sul dopo di noi. Donne e uomini che vivono in famiglia, quella esperienza, sanno perfettamente a cosa mi riferisco. Oggi alcune persone, alcuni nostri concittadini italiani, connazionali, che hanno delle disabilità, che vivono con disabilità, hanno sempre più forte il problema di cosa accade quando i propri cari non ci saranno più. Faccio un esempio, molto semplice. I ragazzi con sindrome di Down, persone straordinarie, meravigliose, con una energia e una voglia di vivere bellissima. Nel 1975, chi ha conoscenza e consapevolezza di queste cose, anche per motivi familiari, sa cosa sto dicendo, Nel 1975, un ragazzo con la sindrome di Down, viveva in media poco meno di 30 anni. Oggi, che bello, vivono, l'età media non è ancora la stessa della media nazionale, ma ci si sta avvicinando, è oltre i 60 anni. Questo significa che però molti di loro sopravvivono ai propri genitori. La legge sul dopo di noi, per la quale abbiamo stanziato 100 milioni, è una cosa banale, ma è il principio che un Paese civile si occupa anche di queste che sono priorità. Non è priorità soltanto la discussione tra le singole correnti o tra i singoli partiti. È anche questa una grande priorità, fare di questo Paese così bello e orgoglioso un Paese più civile e più attento ai diritti degli ultimi, non soltanto al merito, che è uno dei punti fondamentali. E allora, e ho finito, siamo in un momento delicato, il mondo sta un po' arrancando, l'Italia è ripartita. Io sono molto felice di questo, però voglio chiedervi una mano, voglio chiedervi un aiuto. Ci aspettano due anni in cui l'Italia dovrà restituire fiducia alle persone. Restituire fiducia alle persone è anche un fatto economico, perché se ti restituisco fiducia poi sono anche in grado di consumare di più, ma è innanzitutto un fatto etico, culturale. Perché questo accada, la politica deve fare la sua parte, intervenire non soltanto sulla riduzione della spesa pubblica, ma anche e soprattutto cercare di dimostrare concretamente che a una promessa corrisponde un impegno mantenuto. Se si dice che le tasse vanno giù, vanno in questa direzione, gli obiettivi che ci diamo. Se si dice che finalmente si investe su un Paese più solido e autorevole all'estero, anziché gridare sull'immigrazione come si è fatto, si fanno gli investimenti in cooperazione internazionale. Io ho guardato in questi giorni le polemiche di giugno e di luglio di alcuni leader politici, anche qui, non voglio aprire la discussione. Si diceva che il turismo sarebbe crollato per colpa degli immigrati che arrivavano con i barconi. Si diceva che le posizioni del Governo avrebbero piegato il turismo italiano. Nel giro di tre mesi è accaduta una cosa molto semplice. Gli stessi che dicevano aiutiamoli a casa loro sono stati costretti ad andare in TV a dire «Beh, io potrei accoglierne uno nel mio bilocale». Gli stessi che dicevano «il turismo crollerà» oggi sono costretti a riconoscere, che bello, che il turismo quest'anno è aumentato a doppia cifra. E chi diceva che questo era un problema causato dalla incompetenza dell'Italia si rende conto che c'è un'emergenza mondiale, che l'Italia sta gestendo meglio di altri. Perché, guardiamoci negli occhi, io posso anche perdere un punto nei sondaggi, ma non accetterò mai di dire a mio figlio che per avere un punto in più nei sondaggi non faccio di tutto perché un ragazzo che sta affogando all'argo del Mediterraneo non sia salvato dai nostri uomini e dalle nostre donne. Poi si apre la polemica e la discussione su cosa e come si gestisce. Ma prima si salvano le persone, prima si salvano le vite umane, poi si ragiona. E se questo è, lasciatemi dire, è il segno che finalmente le cose si sono rimesse in moto. Però non basta un Presidente del Consiglio, non basta un Governo. Chiedo a tutte e a tutti una mano. Questo è il senso del giro nei teatri. Il teatro è il luogo del sogno, è il luogo della magia, è anche il luogo delle sfide perse. Io vengo da una città, Firenze, in cui al Teatro La Pergola, che è uno dei teatri più belli, più antichi d'Europa, un fiorentino inventò una cosa che allora nessuno sapeva come chiamare e che poi divenne il telefono. Era Meucci, ricordate? Era un macchinista del teatro della Pergola. Voleva evitare di far la fatica, di dare il messaggio, di calare il sipario. E quindi inventò uno strano strumento. Poi però non ebbe i soldi per brevettarlo, lo brevettò Bell. E il telefono è stato invenzione di Bell fino al 2001, quando il congresso americano ha riconosciuto che era merito di quel giovane macchinista fiorentino e non di Bell. Naturalmente Meucci era già morto povero e quindi di quel riconoscimento non sapeva che farsene. Ma l'Italia è così. Due giorni fa ho incontrato a Palazzo Chigi due giovani ragazzi, ora non più giovani perché hanno 50 anni in più, che 50 anni fa, nell'ottobre del 65, a New York presentarono il primo personal computer. Era nato a Ivrea. Poi l'Olivetti decide di fare scelte diverse, ma il programma 101, che poi gli americani hanno copiato e migliorato, come spesso accade nel mondo, nasce a Ivrea, nasce dagli ingegneri e dai periti elettrotecnici italiani. Allora, i teatri sono anche i luoghi in cui ci sono delle occasioni perse. Io vorrei che tra due anni, due anni e mezzo, quando ciascuno tornerà a votare per chi gli pare, si possa però dire dentro il proprio cuore, comunque la si pensi sui partiti e sulla politica, io ho provato a dare una mano al mio Paese e non lo debba dire io come Presidente del Consiglio, ma lo debba dire ciascuno di voi. L'impegno per il quale siamo qui, in terra udinese, in un luogo dove abbiamo omaggiato la straordinaria capacità, pensate soltanto all'azienda che ho appena visitato, ma potrei guardare in faccia i volti delle piccole e medie imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori. Sono qui per chiedervi un aiuto, se tutti insieme smetteremo di piangerci addosso e torneremo, come sa fare la tenace e tosta gente friulara, a guardare al futuro, sapendo che ci sono delle sfide da vincere, ma sapendo che siamo orgogliosi e forti, beh, il nostro essere italiani non sarà soltanto appartenere a una grande storia, ma sarà costruire un futuro. Noi siamo un laboratorio, non un museo. E da questo punto di vista, con l'aiuto di tutti, possiamo essere il Paese più forte del mondo. Grazie di cuore e in bocca al lupo. In bocca al lupo a tutti. Grazie a tutti.